C'è, adesso, ci tengo tantissimo, è un codice a barrio, se lo riprendete con l'iCode e se lo pubblicate sono caldo i vostri, perché vittere la NASA e vi vengono a blindare domani mattino. Era un alfabeto completamente inventato da un povero ragazzino che avendo a disposizione il tecnigrafo, per me è magico, mi sono messo sul bio 70 cento sul tecnigrafo, fregato sempre, facciamo Cialodini, che non sta bene, non c'è perché lo cito, lo cito più io di il Papa Francesco. Allora lo usavamo Cialodini, non c'era niente, non c'era il computer, non c'era il rapimografo, ma a essere ricchi. Noi usavamo quello del compasso che si chiudeva, con dentro la tempra, a seconda, tutte storichine, una larga, una piccola, una larga, una piccola, distante, e poi mi riempivi due, 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 però con la tempra, perché non andava bene il rapido ora? Perché la rapido ora dovevi mettere la china, la china era lucida, il rettangolino nero con le luci linee a destra e a sinistra non funzionava. E loro avevano tutto con la tempra, l'opasso, senza mai sbagliare niente, senza mai fare niente. L'altra cosa che ho fatto, ah, il famoso catalogo antorosico mio, dov'è? Che era il mio marco, che è in anni, ma solo con la prova della fumadena. E allo stesso ho fatto proprio l'assolutura della fumadena, col store parte corretto, l'asso, l'asso, l'diposi preventivo Why are the luci che si san in suggestive, sono tutti i nuovi dipiti, che mimetizzano pello, e faccipa il posto e il bllingtu di VRFAL. E' esso più sul policia, il scrub foстto di VRFAL. Grazie a tutti.